Termina lo stadio comunale Enzio Scida, sentite anche l'infiammazione dello stadio con gli uomini all'uscita, praticamente gli spettatori all'uscita del match Crotone Avellino, termina 2-0 all'84, un'azione di Petriccione, porta in raddoppio il Crotone, 2-0 dunque termina lo stadio comunale Enzio Scida questo settimo turno, risultato 2-0, linea di nuovo allo studio.